Ciao a tutti ragazzi, questo video è improvvisato perché abbiamo visto che il cocchiere sta tirando l'intestino del millepiedi Che bello E quindi se lo sta portando Come puzza ragazzi? Infatti puzza un sacco, non potete capire Ho paura sempre che voli perché ho visto che vola questa specie Sì infatti questa è la nostra prima esperienza con i cocchiere Adesso mi stiamo imparando piano piano Ne abbiamo due per ora che abbiamo prelevato in natura perché comunque gli allevamenti ero peggio che si vendano questi Sì infatti Ragazzi secondo me stanno meglio con noi che in natura Dopo li spruzziamo perché loro hanno bisogno di umidità Infatti se li trovate stanno sempre o sotto il terreno o sotto le pietre Quindi un giorno faremo una guida su come trovarli Infatti noi quello là, il cocchiere numero uno che dopo vi faremo vedere L'abbiamo trovato sotto le pietre Invece questo l'abbiamo trovato che camminavo ed era uscito da un buco Va bene, ci vediamo in un prossimo video Ciao raga Vi faremo il video quando Domani faremo un video su come capire i grilli correttamente Sì e anche i millepiedi Ciao raga